Buonasera a tutti e ben ritrovati. Ritorniamo ai nostri tutorial sugli strumenti per il management e lo stoccaggio delle criptovalute. Oggi in particolare parliamo di stoccaggio e management di Ether nonché di token ERC20 perché si parla di MetaMask, come avrete capito. MetaMask è un altro dei modi possibili per interfacciarsi alla rete Ethereum, quindi un client per la rete Ethereum. In particolare MetaMask si configura come un client iperleggero che permette di integrarsi nei propri browser e tramite il nostro browser ci permette di interagire proprio con la rete Ethereum, quindi non c'è nessuna applicazione strana di terze parti, nessun particolare add-on se non appunto l'estensione MetaMask. Andandosi a collegare al sito metamask.io si trova questa home page, questa landing page che ci permette di scegliere in base al browser che abbiamo di andare allo store delle estensioni di quel browser e scaricare direttamente MetaMask. Mi permette anche di scaricare il browser Brave che è tutto un altro discorso, è un browser a parte, quello che si interfaccia, non so se lo sapete già, anche con BAT, però ne parleremo in separata sede. Insomma adesso parliamo di MetaMask, quindi nel mio caso ho Chrome, andiamo a prenderci l'estensione per Chrome. Eccoci qua nel web store e aggiungi semplicemente, confermiamo l'aggiunta dell'estensione ed ecco fatto. Ci rimanda ad una pagina tutorial di MetaMask che adesso chiudo perché altrimenti mi fa concorrenza, quindi non andate a vederla. Qua vedete che mi trovo questa icona con la volpina, adesso qui chiudo se no divento scemo e mi trovo, vedete appunto l'icona con la volpina che è MetaMask. Quindi clicchiamoci sopra. È tutto qui MetaMask, è questa icona qui che mi apre questa finestrella pop-up da cui posso interagire col plugin. Quindi qui accetto le privacy notice, i termini d'uso, le condizioni d'uso che devo scrollarle giù fino in fondo e accettare. Eccoci qua, questa è la prima schermata di MetaMask. Da qui posso creare un account, quindi vedete, immaginatevi un account di MetaMask come un insieme di wallet, adesso poi andremo a capire meglio cosa significa. In ogni caso il primo input che mi chiede è di andarmi a generare una password di 8 caratteri minimo, quindi io qua scrivo la mia password. L'altra possibilità è di importare un account che io già ho fatto tramite un seed di 12 parole che poi andremo a capire meglio come funziona e che cos'è. Quindi partiamo da zero, io non ho mai usato MetaMask, creo un nuovo account, quindi mi scrivo la mia password a scelta e la confermo. Eccoci qua, quindi l'account è stato creato. La prima cosa che mi mostra una volta creato l'account è proprio il seed che vi dicevo prima, che sono 12 parole casuali, in ordine casuale, che sono, mi dice, l'unico modo per ripristinare il mio account di MetaMask. Quindi questo seed devo tenerlo caro e custodito. Quindi la cosa migliore da fare è copiarlo su carta, scriverlo, in modo che non rimanga neanche online su un file. Qui mi permette di salvarlo come file, come file CSV nel particolare, però vi ripeto è meglio averlo offline completamente. Quindi magari fate una copia su un file che mettete che ne so, su un pendrive da qualche parte e una copia su carta o più copie su carta da nascondere in giro per casa vostra, insomma. E una volta che abbiamo copiato, io in questo caso me ne sbatto della sicurezza e lo copio qua sopra, una volta copiato il seed gli do la conferma che l'ho fatto e eccoci qua, catapultati dentro a MetaMask. Quindi questo è il nostro account che può contenere svariati wallet. Qui ogni wallet lo chiama account. Questo è il primo che viene generato di default con la creazione del profilo, chiamiamolo, su MetaMask. Andiamo a vedere un po' i menu come funzionano. Allora, a partire da questo che è la rete, la scelta della rete con cui collegarsi. Abbiamo l'Ethereum Network che è la rete principale e le varie reti di test. Abbiamo anche questo localhost che lasciamo perdere e custom RPC che è una rete custom che posso impostare. Non so se avete visto il video sul claim di EtherZero che è una procedura che si fa proprio tramite un custom RPC. Quindi a noi adesso non interessano tutte queste funzioni, ci interessa rimanere collegati alla main Ethereum Network. Andiamo a vedere ora gli altri menu. Quindi questo menu con l'omino e le fracce intorno è il menu per switchare tra un account e l'altro. Qui per account si intende wallet. Account 1 è l'account di default. Vedete questo wallet qui che è vuoto. Qui mi fa vedere il bilancio in Ethereum e in dollari che poi è modificabile in una valuta piacere. Andremo a vedere tra poco come. Mi spiace continuare a dirvi andremo a vedere tra poco come però insomma andiamo in sequenza per non perderci. È possibile da qua creare altri wallet con un click semplicemente. Vedete tac creato account 2 e poi mi permette di switchare tra uno e l'altro. Vedete con tutta questa semplicità. Gli account si possono anche rinominare. Wallet 2. Insomma vedete poi anche qui vengono rinominati. Se per qualche motivo vi interessa classificarli in qualche modo li potete rinominare. Comunque l'altra cosa che è molto interessante è la possibilità di importare un account. Quindi supponiamo che io ho un wallet Ethereum che ho creato in MyEtherWallet e lo voglio importare qui. Quindi io clicco import account e mi permette di scegliere la modalità di importazione. Ce ne sono due. tramite chiave privata che è la più malleabile perché mi permette di importare sì MyEtherWallet ma mi permette di importare anche ad esempio un wallet che ho creato non so su Eidu piuttosto che su Exodus piuttosto che su tutti quei vari wallet multi currency che però mi danno a disposizione le chiavi private. Quindi qualora io voglia accedere al mio wallet Ethereum di Exodus da qui da Metamask basta inserire la chiave privata qui che come sapete da Exodus si può esportare. L'altro metodo è il file JSON che è quello che mi genera ad esempio MyEtherWallet. Quindi per entrare adesso vi faccio per esempio importo il mio account di MyEtherWallet un account naturalmente di prova dove non ho su niente perché insomma ve lo mostro così e andiamo a prendere il mio file JSON quindi il mio solito file JSON e inseriamo la password perché vi ricordo il file JSON non è altro che la chiave privata criptografata con questa password. Andiamo a sbloccarlo ed eccoci qua vedete facciamo che lo rinomino come MyEtherWallet. Eccoci qua qua ho su ben 58 centesimi di dollaro. Comunque per farvi vedere che si può importare un wallet esterno, i dati di un wallet esterno e fare i movimenti da Metamask. Ora se io vado a sciogliere questo menu a tendina vedete che mi trovo quest'altro account anche, l'account importato nelle mie possibilità di scelta. Se ci fate caso nell'iconcina qui troviamo la scritta LOSE. Che cosa significa? Significa che questo account è stato importato dall'esterno e pertanto non è stato generato da Metamask. Di conseguenza qualora io andassi a ripristinare il mio account di Metamask tramite il seed di 12 parole questo account non sarebbe incluso quindi non me le ripristinerebbe esattamente come tutti gli altri account importati. qualora voi importate un account lo troverete sempre con la scritta LOSE. Quindi attenzione sono account tra virgolette temporanei perché oddio se voi fate il log out e vi riloggate con la vostra password lui rimane in memoria in Metamask. Però al contrario se fate, ve lo faccio anche vedere, un restore dal seed che è un copy e incolla del seed quando fate il restore del seed vi fa reinserire una nuova password a scelta che può essere anche la medesima di prima guardate non c'è più in questo caso non ho più neanche l'account 2 perché? Beh, semplicemente perché era vuoto non è che mi va a cancellare tutto ogni volta che faccio un restore semplicemente se ho 10.000 account vuoti me ne lascio uno solo se avessi avuto 5 o 6 account tutti popolati, tutti pieni naturalmente non è che me li spazza via comunque la cosa che mi premeva era farvi vedere che l'account importato sparisce questo invece è una cosa che accade sempre quindi quando importate un account in Metamask tramite uno di questi due metodi sappiate che è temporaneo fino al prossimo restore e se lo restaurate da un'altra parte su un'altra macchina non viene importato cosa che invece accade per i wallet creati tramite Metamask quindi questo è quanto per l'import degli account e la gestione degli account andiamo a vedere quest'altro menu allora qui abbiamo le impostazioni semplicemente le impostazioni dove qui posso mettere l'url di un RPC quindi per poi andare a scegliere qui in questo menu RPC e collegarci a un nodo custom la conversione quindi quello che vi dicevo prima posso scegliere la valuta di riferimento per cui mi viene mostrato il controvalore del mio bilancio sul wallet qua sotto posso scaricare tutti i log delle mie attività su Metamask quindi tutti i miei address e tutte le transazioni inviate qua sotto invece mi permette di mostrare, rivelare il seed di 12 parole naturalmente mi chiede di nuovo la password come input per mostrare il seed ed eccoci qua, sempre lo stesso naturalmente qualora magari ho deciso che voglio fare un'altra copia di backup insomma vado qua e me lo mostra quando voglio a posto poi qui sotto abbiamo la schermata principale del wallet quindi abbiamo questo simbolo che ha un identificatore grafico io andiamo semplicemente su Metamask qua la possibilità di rinominare il nome qua sotto l'address qui di fianco ho un menu che mi permette di visualizzare il mio account su Etherscan quindi andare a vedere sulla blockchain il mio wallet lo stato del mio wallet e tutte le varie transazioni e tutte le informazioni reperibili tramite Etherscan show QR code mi mostra il QR code appunto del mio address e mi mostra in chiaro il mio address a chiave pubblica quindi qualora qualcuno mi voglia mandare dei fondi gli mostro questo e o si inquadra il QR code oppure si incolla questo address qui e lo stesso lo faccio io se mi voglio mandare dei fondi da solo copy address to clipboard mi fa un ctrl c del mio address semplicemente export private key mi esporta la chiave privata è una pratica che insomma è sempre meglio evitare però qui mi chiede la password e se io gliela do mi dà la chiave privata di questo wallet e attenzione qua stiamo parlando del singolo wallet e non di tutto l'account di Metamask qua sotto invece di fianco al mio controvalore ho i tasti buy e send che sono quelli che servono per inviare transazioni quindi buy mi permette di fare un acquisto di Ether naturalmente e l'acquisto si può fare in due modi tramite Coinbase che qua mi dice crypto fiat USA only perché qua in realtà se faccio continue to Coinbase mi apre una scherma un widget di Coinbase da cui io già faccio l'acquisto a Metamask quindi mi importa già il mio address e tutto quanto quindi USA only perché è soltanto in dollari poi oddio qua c'è scritto euro però vabbè lasciamo perdere non ci interessa perché se vogliamo acquistare acquistiamo noi direttamente da Coinbase o da GDAX che è meglio e il secondo invece metodo di acquisto è Shapeshift Shapeshift ha quel servizio che probabilmente avrete già visto su Exodus che ci permette di convertire crypto in crypto senza passare per gli exchanges in questo caso vedete mi permette di andare ad acquistare Ethereum in Bitcoin ad esempio qua sotto mi fa vedere le condizioni di acquisto quindi il rateo Bitcoin Ethereum e qua mi fa incollare il mio address di Bitcoin quindi una volta che io faccio submit mi darà un address a cui io devo inviare i Bitcoin i Bitcoin che invio lì verranno convertiti dal servizio di Shapeshift in Ethereum e mi verranno reinviati al mio address di Metamask qualora qualcosa vada storto io qua inserisco il mio BTC Refund Address che è un indirizzo a cui mi vengono rimborsati i Bitcoin ok quindi questo per acquistare Ethereum send è invece mi apre l'interfaccia di transazione quindi io invio fondi dove li voglio inviare? allora qua se io tiro giù il menu a tendina mi fa già vedere i miei account associati a Metamask i miei wallet associati a Metamask supponiamo di voler trasferire da qui al mio account 1 l'ammontare quanto? allora facciamo ad esempio un copy e incolla transaction data lasciamo perdere non ci interessa facciamo next eccoci qua nella schermata di transazione vedete? qui posso confermare e mettere come input inserire il gas limit e il gas price che sono quei due parametri che posso inserire anche da MyEtherWallet che insomma mi permettono di definire la velocità della transazione in sostanza e qua mi fa vedere il totale massimo della fee che pago con questi parametri e qua il totale massimo della transazione al netto della fee naturalmente mi dice che ho bilancio insufficiente quindi io non posso fare la transazione ma al contrario avrei un tasto di conferma io adesso annullo allora qui adesso vedete che mi ha iniziato a popolare la cronologia che nella finestra sent avrò poi una cronologia di tutti gli invi che ho fatto tokens invece è quella sezione che mi mostra i movimenti dei token perché naturalmente essendo un wallet IRC20 posso andare a movimentare anche i token ora non ne ho e qualora li avessi ne volessi aggiungere posso fare add token e esattamente come faccio in MyEtherWallet qua inserisco lo smart contract del token il simbolo e i numeri decimali del token quindi sono i soliti parametri ad esempio per quando si partecipa ad una ICO e si vuole andare ad aggiungere subito il token che magari non è ancora registrato ufficialmente a proposito di ICO sì tramite MetaMask si può partecipare alle ICO semplicemente andando ricordandosi di settare quando si fa l'invio da smart contract del nostro wallet il gas price e il max gas nei valori che ci vengono consigliati dalla ICO in questione altrimenti rischiamo di che non vada a buon fine il nostro acquisto dunque questo in realtà è praticamente tutto per quanto riguarda MetaMask qualche ultimo accorgimento di sicurezza vabbè naturalmente copiatevi il seed in un posto sicuro perché vi potrebbe servire non siate mai sicuri soltanto della password perché a volte succede anche semplicemente cancellando la cache i cookies e la cronologia o per un crash di Chrome per qualsiasi motivo che vi si resetta MetaMask quindi mi raccomando il seed fondamentale stampatelo tenetelo al sicuro fatene tante copie e insomma non accontentatevi della password le chiavi private sì anche quelle ve le potete scrivere però se avete il seed non dovete temere il Ledger Nano S se io ho il Ledger Nano S come faccio mi arrangio perché non è integrato in nessun modo in MetaMask quindi se io voglio spostare i fondi dal Ledger a MetaMask devo fare un trasferimento ad esempio tramite MyEther Wallet questo purtroppo è un limite di MetaMask un'altra cosa che ci permette di fare MetaMask è interagire dal nostro browser con le cosiddette DApps che sono le applicazioni decentralizzate che è ciò per cui è stato creato Ethereum quindi vi faccio vedere un brevissimo esempio cercando Ethereum DApps vedete il primo sito è State of the DApps che è semplicemente un DApp Store chiamiamolo così che in realtà non è uno store perché sono tutte gratuite in ogni caso vedete qua ci sono tutte le varie DApps e possiamo semplicemente selezionandole aprirle ad esempio Ether Dungeon mi fa vedere che cos'è la lanciamo adesso ve lo faccio vedere molto in breve in sostanza questo è un gioco di ruolo per cui vedete tramite MetaMask mi accede e da qui posso sono collegato alla rete Ethereum e questo è un gioco di ruolo per cui io mi alleno il mio giocatore il mio personaggio combatto e posso guadagnare Ethereum vi faccio vedere come funziona l'interazione dove naturalmente c'è un premio se io batto il livello in corso per allenarmi vedete mi apre automaticamente MetaMask devo fare io una transazione vedete in questo caso di 2,48€ è insomma un gioco utilizzando però soldi reali perché si utilizzano Ethereum quindi questa è un'altra delle applicazioni insomma di MetaMask d'accordo poter interagire con le depths questo è il vantaggio anche di avercelo nel browser piuttosto che un qualcosa di stand alone come è MyEtherWallet questo è quanto ragazzi era un brevissimo tutorial su MetaMask che è un servizio molto utile molto leggero e per chi insomma vuole un qualcosa di alternativo al classico MyEtherWallet è validissimo spero che vi sia stato utile e ci sentiamo e ci vediamo sui social e sui nostri soliti canali e alla prossima ciao ciao